Il mondo dello spettacolo è scosso da una denuncia senza precedenti. Il maestro Vessicchio, noto compositore e interprete di grande talento, ha intentato una causa legale contro la RAI, svelando una verità esplosiva sulle retrovie del noto programma televisivo La Prova del Cuoco. Tutto è iniziato quando il maestro Vessicchio ha scoperto che i suoi diritti di utilizzo per le musiche da lui composte ed eseguite durante la trasmissione non erano stati adeguatamente riconosciuti. Sentendosi tradito e privato del giusto compenso per il suo lavoro artistico, ha deciso di fare sentire la sua voce e far luce su questa ingiustizia. Con determinazione e coraggio ha intrapreso un percorso legale contro la RAI, portando alla luce dettagli sorprendenti riguardo alle pratiche di utilizzo delle musiche nei programmi televisivi. La sua denuncia ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media, suscitando un forte interesse per la questione dei diritti dei musicisti e dei produttori nell'industria dello spettacolo. Il Tribunale ha preso una posizione chiara, ribadendo che le utilizzazioni di questo tipo devono garantire il pagamento dei diritti spettanti ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti esecutori. Questo verdetto storico potrebbe avere ripercussioni significative nell'industria musicale e televisiva, aprendo la strada a una maggiore tutela dei diritti dei creativi e all'equità nel compenso per il loro lavoro. Il maestro Vessicchio, insieme al nuovo Imaie e altri soggetti coinvolti, attende con ansia il riconoscimento dei propri diritti e il risarcimento per il torto subito. L'impatto di questa denuncia va oltre la singola vicenda, poiché si tratta di una questione che coinvolge molti altri artisti e professionisti del settore, i quali guardano con attenzione a questa causa come un potenziale punto di svolta nella tutela dei loro interessi. Il mondo dello spettacolo è in subbuglio e le attese sono alte per le conseguenze di questa denuncia. Scopri tutti i dettagli di questa controversa vicenda perché nulla sarà più come prima. Clicca ora per svelare il retroscena di questa denuncia che sta facendo tremare le fondamenta della RAI e dell'intero mondo della musica. Non perderti nemmeno un capitolo di questa affascinante telenovela legale perché il futuro dei diritti dei musicisti è ora nelle mani della giustizia.